buona giornata amici ben trovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è lunedì 26 febbraio 2024 questa mattina la mia voce rimbomba qui in studio quindi chiedo alla regia insomma di ripianare il tono della voce comunque noi proseguiamo con la nostra rassegna stampa passando come sempre attraverso l'almanacco del giorno oggi si festeggia eccolo qua sant'alessandro sant'alessandro vescovo di alessandria siamo tra il terzo e il quarto secolo dovete lottare fu il grande antagonista di ariano dovete lottare soprattutto con l'arianesimo una delle grandi eresie che aveva così contra contrastato i praticanti della fede cristiana nei primordi del cristianesimo nei primordi non ovviamente all'inizio quando era san pietro e tutti gli apostoli diciamo nel terzo secolo quindi siamo 300 anni più avanti ma nel momento in cui la fede veniva tollerata dal grande potere dopo costantino ebbene alessandro dovete lottare contro l'arianesimo quella dottrina che sostiene un ruolo subordinato di gesù rispetto a dio e subordinato anche dello spirito santo rispetto a entrambi rispetto a gesù e rispetto a dio insomma è una questione della trinità ebbene alla fine il concilio di nicea il famoso concilio di nicea che si tenne nel 325 proclamò eresia alla dottrina di ario e quindi fu condannato l'arianesimo e alessandro fu un indefetto un indefesso difensore appunto dell'ortodossia religiosa e veniamo ora alle previsioni del tempo oggi questa mattina il tempo è ancora buono ma nel corso della giornata è previsto un nuovo peggioramento specialmente nel pomeriggio in serata ci dovrebbero essere precipitazioni sparse in tutta la regione Marche le temperature 6 la minima 14 la massima sulle coste i venti spireranno con una tensione media da sud est così come nell'entroterra il mare è leggermente mosso e cosa dire cosa dire che le temperature sono in calo insomma questa settimana dovremo avere un tempo perturbato rispetto al tempo sostanzialmente sereno che abbiamo lasciato la settimana scorsa e intanto allora noi continuiamo la nostra lettura dei giornali e vediamo sul resto del carlino la prima pagina con il sunto di tutte le notizie che interessano la nostra regione e partiamo dalla provincia di pesaro urbino con una bella foto che illustra la biosfera che si è accesa questa volta si è accesa in piazza del popolo a pesaro si accende la biosfera buona la seconda la prima è capitato un guasto su un piccolo flop sulle note di rossini rossini non può mancare nella settimana della cultura che insomma si viene alternata un po in tutti i centri della provincia capitale della cultura maxi installazione artistica in piazza la cerimonia di accensione davanti a 4.000 persone e poi vediamo le altre notizie a fano si registra un assalto della malavita al bancomat di fenile ha usato l'esplosivo però insomma è stato un flop perché la cassaforte ha tenuto e poi il progetto di riceci che non finisce di destare polemiche riceci protesta un pannello contro la discarica il progetto della discordia così come viene definito questo progetto che insomma dovrebbe dare un grande impatto ambientale al nostro territorio vediamo vediamo ora le altre province a bene in ancona sorge la rabbia di via veneto ostaggi del traffico sono i residenti che non ne possono più della grande affluenza di autoveicoli sotto la loro strada e poi un controllo da parte delle forze dell'ordine un controllo generale su diversi temi ebbene hanno trovato un'automobilista che indossava un casco giocattolo un casco di plastica solo per far vedere ovviamente un casco che non proteggeva nulla e poi abbiamo anche chi ha acquistato una targa del suo autoveicolo su amazon e quindi non era una targa certificata dalla motorizzazione civile da volotea a luftanza chi guarda al sanzio ebbene qui si parla invece in questo articolo dell'aeroporto delle marche quello di falconara vediamo la provincia di ascoli e di fermo via al progetto di screening contro i tumori ospedale murri all'avanguardia a monte urano poi si parla di politica il valser in giunta fuori brasilì mandolesi assessore un avvicendamento per quanto riguarda la compagine amministrativa e poi un allarme che in realtà non si mantiene soltanto nella provincia di ascoli e di fermo ma è un allarme che suscita un po in tutto il territorio le culle sono sempre più vuote calo demografico senza fine la rua terza a san marino per un soffio sfuma il sogno dell'eurovision ebbene questa band questa band scolana non riesce ad arrivare al livello europeo a macerata alcolisti anonimi gruppi in crescita un aiuto sostanziale alle famiglie a potenza piccina un flash mob in piazza per la biblioteca si vuole che il comune la riapra mentre a civita nova un sos sorge dal porto barca in fiamme paura ai cantieri navali bivacchi a bordo insomma questa dovrebbe essere la causa di questo incendio che è scaturito all'interno di questo natante e allora apriamo i giornali e vediamo le notizie all'interno cominciamo con il tema della discarica di riceci spunta la controsfera ebbene questa pagina è alternativa alla pagina a fianco che parla della biosfera e di questa grande manifestazione che si è svolta ieri in piazza del popolo con uno spettacolo molto molto suggestivo perché questa biosfera poi ha proiettato tutti gli aspetti peculiari che rendono noto e attrattiva la città di pesaro ebbene un colore verde per il parco del san bartolo l'azzurro del mare adriatico e poi altri colori per le antichità dei musei civici mantenendo il focus sempre su pesaro capitale della cultura e ovviamente non può mancare la musica perché tutto si è svolto sulla suggestione delle note musicali di rossini uno spettacolo veramente entusiasmante che ha suggestionato tante tante persone appunto il giornale ne calcola 4.000 che ieri hanno assistito a questo spettacolo in piazza del popolo più di 4.000 persone hanno voluto esserci di nuovo dopo il blackout sonoro di sabato un incidente di carattere tecnico insomma che ha un po' rovinato la festa ma per il sindaco Ricci questa è un'opera talmente importante che durerà sicuramente dei decenni e poi si dovrà decidere dove collocarla ebbene questa è la biosfera allora vediamo la controsfera perché la biosfera parla anche di temi ambientali e soprattutto Ricci è uno della punta di un iceberg di temi ambientali del nostro territorio ebbene anche qui abbiamo una sfera una sfera che viene evidenziata con una grafica con un pannello un manifesto insomma un manifesto che fa da controsfera il stato all'ingresso del gallo il paese al paese nei pressi appunto di Ricci si tratta di una sfera specchiante che crea un paesaggio ed è anche questa suggestiva insomma si tratta di non rovinare uno dei più bei paesaggi nel nostro territorio che dovrebbe essere salvaguardato da questo progetto che intende trasformarlo in una mega discarica vediamo ora le altre notizie mentre mentre Pesaro ha così festeggiato la ruolo di capitale della cultura con la biosfera Fano invece ha festeggiato con una con l'inaugurazione della nuova piazza marcolini un spazio uno spazio un po appartato rispetto alla vita sociale della città che ora riacquista il suo ruolo prima era un anonimo parcheggio ora invece dovrebbe diventare un centro d'attrazione importante e si è puntato soprattutto dal punto di vista artistico ieri c'erano anche dei pittori che ritraevano insomma facevano un po una piccola montmartre e proprio il richiamo al quartiere francese si evidenzia oggi sul resto del carlino rinasce piazza marcolini ieri taglio del nastro per la piccola montmartre così viene definita erano presenti gli artisti di strada ritrattisti come se ne vedono a parigi ebbene se non fosse solo per il primo giorno dell'inaugurazione ma questo aspetto suggestivo con gli artisti con persone che sostano passeggiano chiaccherano magari leggono un libro oppure assistono a uno spettacolo questa piazza veramente riviverebbe per il sindaco seri è il coronamento degli sforzi per valorizzare la città il sindaco seri poi dato anche altri appuntamenti ha dato l'appuntamento ad aprile per inaugurazione della ristrutturazione di viale battisti poi ci sarà inaugurazione dell'exagip ancora l'inaugurazione dell'intervento che si sta facendo in sassonia insomma e poi altri c'è anche piazza in dracosta insomma prima della fine della tornata amministrativa altre opere verranno completate ma il bello di ieri a piazza marcolini è stata la proiezione che è stata fatta sulla facciata del palazzo della nota casata nobiliare quella dei marcolini un palazzo che risale al 1600 è stata narrata la storia su un testo di silvano clapis e poi c'era un concerto di musiche molto molto suggestive cantate cantate in modo da così realizzare un'atmosfera molto molto affabile assalto con l'esplosivo al bancomat di fenile ma la cassaforte regge un assalto esplosivo alle 4 e 30 di ieri notte al bancomat della bcc agenzia di fenile i malviventi sono entrati in azione mettendo del gas all'interno del macchinario per poi farlo esplodere sono state due esplosioni ma come dicevo la cassaforte ha tenuto quindi ai malviventi non è restato altro che darsela a gambe fuggendo tra i campi perché poi l'esplosione ha svegliato un po tutta la frizione se non fossero fossero restati lì a continuare la loro azione probabilmente sarebbero stati sorpresi dalle forze dell'ordine alle 4 e 30 dell'altra notte ai danni del bcc ed ora andiamo ad apecchio dove vediamo un caso di salvataggio cade e si rompe una gamba salvato con l'elicottero è accaduto ieri mattina nel fosso del mulino ad apecchio erano le 11 e 20 nei monti intorno ad apecchio un paesaggio piuttosto selvaggio e nella località san cristoforo un escursionista ha perso l'equilibrio nella boscaglia ed è scivolato in un fossato senza riuscire più ad alzarsi per fortuna c'erano gli altri escursionisti e hanno subito dato l'allarme hanno chiamato il 118 e di lì a poco è stata mobilitata l'eliambulanza per recuperare il malcapitato e portarlo poi sono intervenuti anche i vigili del fuoco di cagli e portarlo poi al pronto soccorso nella cattedrale di urbino si è dato l'addio a monsignor marinelli il vescovo appunto della città ducale la salma è stata poi tumulata nel suo paese d'origine nell'ascolano un compianto che ha coinvolto molti molte persone che avevano conosciuto sono state vicine a monsignor marinelli parliamo anche del aeroporto di falconara perché è un tema che coinvolge un po tutta la regione marchio aeroporto secondo atto ecco le altre compagnie che si affacciano sul sanzio sul raffaello sanzio da volotea all'oftanza continuità dunque territoriale cresce l'attesa per chi erediterà il dopo aereotaglia il governatore qui roli così togliamo le marche dall'isolamento e insomma è una vicenda alterna quella che coinvolge il nostro aeroporto compagnie che vanno e vengono voli che vengono realizzati poi vengono soppressi vengono cambiati insomma è un aeroporto piuttosto piuttosto vivace questo è quello che pubblica oggi no prima di lasciare il resto del carlino volevo farvi vedere anche questo articolo che riguarda i controlli che sono stati compiuti in ancona dalle dai vigili documenti falsi sul treno e si parla di persone che viaggiano con titoli falsi in sella col casco giocattolo è quello che è stato trovato un ragazzo all'altezza della stazione di falconara è stato fermato dalla polizia locale ed è stato trovato con in testa il casco di plastica quello che si comprano un po nei supermercati ebbene e il sequestro il mezzo è stato sequestrato e lui è stato moltato e poi c'è anche l'altro l'altra vicenda del del sì del del fatto del dei documenti falsi sul treno e poi tutte le altre vicende che hanno così coinvolto il weekend nel lanconetano venerdì all'interno di un treno fermo allo calo di falconara la polizia locale ha sorpreso un giovane cinese senza biglietto con i documenti intestati ad un'altra persona e poi sulla strada i vigili hanno intercettato un uomo di pesaro al volante di una mini cooper intestata alla moglie l'auto presentava una targa sospetta e alla fine si è accertata che questa targa invece di essere la targa della protezione della dell'ufficio nell'ufficio della motorizzazione civile era stata acquistata su amazon insomma su amazon veramente ormai si compra di tutto e vediamo anche questo articolo che riguarda gli alcolisti anonimi purtroppo l'alcolismo è un male che invade un po tutto il nostro territorio alcolisti anonimi gruppi in crescita serve supporto anche ai familiari perché come capita per quelle malattie che si prolungano durante tutta la vecchiaia delle persone che pesano sulle famiglie anche come la droga anche l'alcol è una di quelle diciamo così disgrazie che purtroppo capitano a quelle famiglie che poi devono sopportarne tutto il peso perché non solo l'interessato ma anche ai familiari poi sono coinvolti è uno dei medici e ragazzi devono vivere la loro età spensierata e accettare la condizione dei genitori senza appunto fare opere e azioni in controtendenza questo per quanto riguarda il resto del Carlino ora apriamo il Corriere Adriatico la pagina di Fano è dedicata appunto a quanto è avvenuto a Fenile boati nella notte assalto al Bancomat ma il comando resta a mani vuote due esplosioni poco prima delle 4.30 resiste la cassaforte dell'agenzia di Fenile della BCC di Fano svegliati i residenti e caccia alla banda controllate le riprese video ai varchi stradali queste videocamere che ormai controllano un po' tutto il territorio c'è stata una conferenza stampa nei giorni scorsi da parte dell'amministrazione comunale che ha fatto una panoramica su tutte le installazioni video che sono state sistemate in città e in periferia sono molto utili queste non soltanto per questioni di traffico per questioni di regolarità per quanto riguarda le norme del codice della strada ma anche per le indagini sull'ordine pubblico e proprio questo è uno dei casi che rientra come sussidio alle indagini delle forze dell'ordine riuscire a cogliere l'auto che ha compiuto questo tentato furto è importante per poi risalire agli autori dello stesso un incidente invece è a fondo pagina auto si ribalta sulla via conducente miracolato è accaduto a Fossombrone spettacolare un pauroso incidente in via Rossini in pieno centro abitato nella zona residenziale di Fossombrone un'auto ha capottato il conducente, un sessantenne appunto della città per fortuna non ha riportato gravi conseguenze è riuscito a mettersi in salvo uscendo da solo dal finestrino dell'auto che vedete qui in questa fotografia era a testa in giù l'altra apertura è dedicata invece alla inaugurazione di piazza Marcolini a Fano vedete qui che bella illuminazione prima sul rosso rosa poi sull'azzurro con toni caldi del giallo insomma veramente era una suggestione che ha coinvolto tante tante persone eliminato il parcheggio è rifatta la pavimentazione nuove panchine, aiuole, illuminazione è questa fontana che è stata riposizionata davanti all'ex istituto d'arte a Polloni lo stabile, il grande palazzo Marcolini che prima ospitava questa scuola ora trasferita a San Lazzaro un palazzo che deve essere rifunzionato cioè deve ritrovare una sua collocazione funzionale ma la piazza ora è molto molto bella rimane da sistemare questo edificio che le è a fianco lo vedete qui perché ora questo edificio proprio in occasione dell'inaugurazione è stato coperto da un telo che riproduce la sua facciata in maniera consona in maniera non degradata come lo è attualmente il proprietario ha deciso di risistemare tutto in modo che tutta la piazza poi abbia concorra all'arredo che è stato realizzato dall'amministrazione comunale insomma, da un'ora in avanti piazza Marcolini potrà riacquistare la sua funzione sociale che aveva in passato e proprio il suo passato è stato ricordato con una bella videoproiezione sulla facciata di Palazzo Marcolini nella giornata di ieri ed ora andiamo a Fonte Avellana andiamo a Fonte Avellana perché si è festeggiato il priore venuto dal Brasile aperti al cambiamento ha dichiarato quest'ultimo a Fonte Avellana si è insediato Dom Cristiano de Oliveira Susa Papa Francesco il faro per questo nuovo religioso insomma, guarda con grande affetto a Papa Francesco la responsabilità di un monastero milenario come quello di Fonte Avellana l'umiltà di un monaco entusiasta dall'idea di Papa Francesco per una chiesa più contemporanea sono questi i cardini con i quali si muove il nuovo priore di Fonte Avellana ebbene il nuovo priore ha iniziato il suo ministero con una messa concelebrata dal vescovo di Fano Monsignore Andrea Andreozzi e il priore generale dei camaldolesi Dom Matteo Ferrari anche lui fresco di elezioni ai vertici dell'ordine ebbene Fonte Avellana rimane veramente un presidio di religiosità, di cultura, di misticismo di pace, di bellezza del nostro territorio e poi parliamo di Colle Marathon perché questa grande gara sportiva non coinvolge soltanto Fano dove è previsto l'arrivo ma anche il territorio dell'entroterra perché c'è il Colle e c'è il mare Colle Marathon ebbene sono già 300 gli iscritti e questo articolo viene da terre roveresche nel ventennale la prova sulla mezza distanza valida per il campionato parolimpico quindi un'occasione in più per chi parteciperà a questo grande evento sportivo 5 maggio prossimo segnatevelo nella vostra agenda a Senigallia a Senigallia ancora ladri ladri scatenati blizzi in tre abitazioni hanno rubato la fede di mio padre ebbene con tre furti tentati quello che hanno rubato è stato soltanto un anello ma un anello che è un ricordo un anello che è un qualcosa di sacro per chi lo manteneva ed era la fede del suo papà Montignano nel Mirino tra le vittime Marconi il creatore di maschere un artista colui che è stato la vittima appunto di questo furto derubata anche una dottoressa insomma qui un raid veramente molto molto determinato che hanno effettuato questi malviventi dovrebbero aver agito tra le 18.30 alle 19.45 racconta Lorenzo Marconi vincitore della miglior maschera del giovedì grasso del Carnevale di Venezia sono passati dal giardino dietro casa hanno scassinato la porta sul reto dell'ambulatorio di Margherita Angiletti facendo diversi danni poi sono entrati nell'appartamento della signora al piano terra e poi hanno divelto la porta del giardino pensate le cose che hanno fatto messo a soquadro tutto e non avendo trovato nulla hanno preso una scala del ripostiglio e l'hanno usata per salire sulla finestra del mio bagno ha detto Marconi e poi in questo appartamento hanno prelevato la fede una fede d'oro insomma veramente una cosa esecrabile vediamo l'apertura sulla pagina di Pesaro anche sulle Corriere Adriati con un po' mancare quello che è accaduto alla biosfera una piazza stracolma stregata dallo spettacolo e con questa notizia noi terminiamo la nostra rassegna stampa con il solito appuntamento a domani alle ore 7 grazie per l'ascolto e a risentirci grazie per l'ascolto